Il mondo della politica e della scuola perdono un pezzo di storia importante. Si è spenta a Roma all'età di 76 anni. Era stata assessore e consigliere comunale a Palazzo San Giorgio, ricordata per le sue battaglie civili contro la violenza di genere e a favore della sanità pubblica. Sentiamo Marta Martino. Si è spenta a Roma all'età di 76 anni dopo una breve malattia. Adriana Itzi, docente di materie umanistiche e preside in diversi licei di Campobasso, una delle prime dirigenti del Ministero dell'Istruzione. La sua scomparsa è stata grandissima commozione a Campobasso e in tutta la regione, perché oltre ad essere stata donna di grande cultura, carisma personale e grande umanità, Adriana Itzi è stata assessore nella giunta Massa, Palazzo San Giorgio e poi consigliere di opposizione nella giunta di Bartolomeo. Sempre in prima linea nelle case civili, viene ricordata soprattutto per le battaglie contro la violenza di genere, a favore delle persone fragili e a difesa della sanità pubblica. Tanti i post di cordoglio che ne ricordano le doti umane e politiche. Cambiamo argomento. Nella libreria della Corte di Isernia, piccolo centro culturale della città, è stato presentato il romanzo Piccole immagini di raso bianco, edito da Rubettino, scritto dal direttore di Telemolise Emanuele Appetescia. Lo presento per la prima volta a distanza di cinque anni dalla sua uscita, ha detto l'autrice, perché tra covid e vicissitudini personali, avevo dovuto necessariamente metterlo da parte. Per noi c'era Enrico De Simone. Un pugno nello stomaco. È stata questa la definizione più condivisa del romanzo scritto da Manuela Petescia, Piccole immagini di raso bianco, un viaggio negli abissi della psiche umana, che consegna ai lettori una costruzione dell'io assai distante dalle finzioni e dalle ipocrisie sociali. Abbandonare le grandi recite imposte dal vivere comune e provare a guardarsi dentro non è tranquillizzante né consolatorio, ma sollecita una riflessione profonda tra chi siamo veramente e cosa invece siamo costretti a sembrare, e la verità disorienta. Presentato dalla scrittrice Marilena Ferrante nella libreria della Corte, piccolo e vivace centro culturale di Sernia, il romanzo è stato analizzato nelle sue molteplici sfaccettature, piccole e grandi ansie, piccole e grandi ossessioni, filtrate dai comportamenti dei protagonisti e soprattutto da un crudo realismo, il disincanto e talvolta il cinismo con cui è possibile osservare la vita quando emergono i pensieri inconsci. Tra i diversi interventi in sala, quello del giornalista Agostino Rocco, del poeta Antonio Vanni e della docente di psicologia Graziella Iannuzzi, un linguaggio forte e poetico insieme, piccole immagini di raso bianco è un romanzo che si divora e lascia un segno. Il libro di Manuela Petescia io l'ho letto veramente e l'ho divorato, perché sono un'appassionata di psicologia e di psicoanalisi in primis, e poi perché si legge in quanto la sua è una scrittura veramente molto affascinante e robusta, una scrittura che fa venire voglia proprio di leggere il libro. Poi c'è un'indagine disarmante della psico-umana, c'è un percorso psicologico molto interessante che si intreccia poi con la vita dei protagonisti, quindi c'è una narrazione, una bella costruzione proprio narrativa, diciamo complessità dell'essere umano, catapultato insomma nelle situazioni svariate che poi viviamo noi tutti i giorni. Quindi è anche un libro in cui ci si può riconoscere tranquillamente, perché mostra anche una padronanza dei contenuti psicologici e psicoanalitici da parte dell'autrice. Bene, tutto per la prima edizione del nostro telegiornale, adesso come sempre la nostra rassegna stampa. Partiamo come sempre dal web e dal nostro giornale del Molise, in apertura ancora la politica con la notizia delle dimissioni di Toma da commissario della Sanità, dimissioni che saranno ufficializzate oggi, poi domani la giunta regionale chiederà al governo la fine del commissariamento. Accanto alla morte di Adriana Izzi, dirigente scolastico, figura di altissima cultura, protagonista della vita politica in prima linea nella difesa dei diritti civili. Nella parte bassa da Trivento, dalla cattedrale di Trivento con la sua meravigliosa cripta, la notizia è della messa, è trasmessa in diretta su Rai 1 ieri dalla cattedrale appunto di Trivento. In basso andiamo ad approfondire lo spazio degli editoriali, si intitola Casini, l'ultimo dei Dorotei, eccolo qua, l'editoriale firmato oggi sul nostro giornale del Molise da Paolo Frascatore e ricorda gli anni della cosiddetta Prima Repubblica e quindi gli anni del dominio della democrazia cristiana. Lasciamo il giornale del Molise e andiamo subito su primo piano Molise, anche qui in apertura ancora le reazioni alle dimissioni di Toma, vi faccio vedere nel dettaglio. Toma lascia, Iorio attacca, fa la vittima ma dovrebbe chiedere scusa per gli errori commessi. L'ex presidente rompe il silenzio nel centrodestra dopo l'annuncio del commissario della Sanità. Bonamico si è limitato a riportare le situazioni nella normalità. E poi ancora sulla radioterapia interviene anche la leader della UIL, braccio di ferro inutile, ora si pensi ai malati. La grande foto a centropagina è per la giornata dei diritti delle persone con la sindrome di Down, in 50, oltre 50 città d'Italia ieri c'è stato questo flash mob, anche a Campobasso vedete la foto, l'iniziativa dell'associazione persone Down, inclusione, la Grignoli dice associazioni e privati non bastano, serve l'aiuto delle istituzioni. Le altre notizie, c'è un'intervista ad Alessandra Salvatore nel nuovo PD di Schlein, un posto d'onore per lei, è stata nominata nella direzione nazionale, c'è l'intervista su primo piano. Altra notizia in prima pagina, la morte di Adriana Itzi, la preside Itzi, il mondo della scuola in lutto, poi da Campomarino siamo terra di conquista, incontro pubblico sull'eolico, a Benafro la notte dei fuochi accende il divertimento, boom di presenza in città, caos concessioni, Feder Balneatori chiede un tavolo al governo. Nella parte bassa della prima pagina, un po' di Molise in mostra all'archivio di Stato di Roma, tra i cimeli pure il periodico Libertà sedito a Isenia nel 1946, la mostra si chiama Lo scrigno della memoria. È lunedì e c'è anche lo sport sul primo piano, vediamo quali sono i titoli sotto la testata. Serie D, il vasto Girardi battuto dal Fano, Termoli sconfitto a Senigallia, in eccellenza prova di forza dell'Isenia che si riporta a due punti dal campo basso, e poi il basket con la Magnolia che brinda al successo casalingo, Moncalieri va al tappeto. Approfondiamo qualche titolo sul testate web regionali, cominciamo con Isenia che parla di trasporti, Isernia migliorare il trasporto in città, arrivano i bus a chiamata, il servizio garantirà orari più flessibili, minore inquinamento e c'è questo servizio con un'intervista firmato da Giuliano Vacca. Questa era Isenews, vediamo oggi anche Controvento che propone un approfondimento su una tematica nazionale, questo utero in affitto, sala minimizza, ma ecco come funziona il mercato dei bambini comprati da coppie esterili e omosessuali, e c'è l'approfondimento firmato da Viviana Pizzi. Questo era il web regionale, adesso andiamo sulle prime pagine nazionali, cominciando dal Corriere della Sera, vedete le notizie sulle prime pagine riguardano soprattutto la guerra in Ucraina, ma poi anche le polemiche sul coppio gay e figli, lo sport con il campionato di Serie A e poi l'accordo per la vicenda di Credit Suisse, quindi la banca svizzera. Cominciamo dal Corriere della Sera. Dicevamo Putin a Mariupol, Ira di Kiev, visita a sorpresa nella città martire, la reazione cinico senza rimorso. Oggi, sì, il leader cinese intanto arriva a Mosca, gli Stati Uniti dicono una richiesta di tregua sarà inaccettabile. Dicevamo le polemiche a livello politico su coppie gay e figli, Rocella attacca, scontro sui diritti con la sinistra, c'è stata un'intervista televisiva ieri dopo il presidio di Milano, che vedremo anche su altri giornali, ha acceso ulteriori polemiche. Poi dicevamo le banche, accordo raggiunto su Credit Suisse, l'attesa per i mercati. La grande foto è la festa Juventus, festa Juve a San Siro, Inter alla nona sconfitta, Napoli inarrestabile, alla Lazio invece il derby romano, questa è la sintesi della domenica sportiva. Andiamo su Repubblica che invece inverte, apre con la questione banche, vi faccio vedere il titolo nel dettaglio, salvataggio Credit Suisse, Europa con il fiato sospeso, trattativa frenetica e accordo per provare a disinnescare la crisi. In basso il naufragio di Cutro, si torna sulla tragedia, la guardia di finanza sapeva, sul Caicco ci sono i migranti e anche qui la foto è la stessa, vedete la Juve batte l'Inter, il derby di Roma va alla Lazio. Questa è la Repubblica, proseguiamo con il messaggero che apre come Repubblica, patto per salvare Credit Suisse, interviene il governo svizzero, UBS compra la banca rivale per 3 miliardi, crack evitato, iniezione di liquidità fino a 200 miliardi. Sotto la testata carceri, bonus alle ditte che assumono detenuti, ostellari del Ministero della Giustizia, a Serbia non farli tornare a delinquere. Sotto grande foto, però sul giornale romano non poteva che essere così, per il derby, alla Lazio un derby ad alta tensione, con tre espulsi risse in campo e fuori. E poi qui il Ministro Roccella, madri surrogate, così è un mercato stop del governo. Il Ministro Roccella ieri è andata, ospite da Lucia Annunziata. Questo era il messaggero, poi vedremo, ci sono state anche polemiche su quella partecipazione. Andiamo sulla stampa di Torino, che ha un approfondimento su un altro argomento. I fondi del PNRR si arenano al sud, comuni incapaci di spendere, così l'Italia rischia di perdere i soldi. De Luca finirà tutto al nord, De Luca, il governatore della campagna. Corsa contro il tempo per raggiungere gli obiettivi, ma nel mezzogiorno si accumulano i ritardi sui bandi. Le due grandi foto al centro pagina, c'è Putin che va in Donbass, rabbia di Kiev, mostro cinico, il titolo della provocazione, e poi accanto alla grande bugia, vent'anni fa, gli usa in Iraq senza un perché, c'è questo anniversario. Questa era la stampa. Adesso andiamo invece sul fatto quotidiano, che ha un approfondimento su una vicenda che ha sollevato lo stesso fatto nei giorni scorsi, infatti vedete in rosso lo scoop del fatto, Conte e i soldati ucraini in Italia, il governo ci trascina in guerra, Schlein tace, Fratogliani invece dice che continua l'escalation nella parte bassa, tassi su, paesi poveri giù, Sri Lanka caso di scuola, il fatto economico. C'è questo approfondimento oggi sulla prima pagina del fatto quotidiano. Proseguiamo con Libero, vi dicevo polemiche sul ministro Rocella da Lucia Annunziata, e lo vediamo qui, l'Annunziata perde la testa, utero in affitto, la giornalista Rai si crede ancora sul palco della CGL e aggredisce in tv il ministro Rocella sulle gravidanze all'estero per conto terzi. La frase è questa qui, ve la faccio vedere, dovete fare questa legge, ci puntini puntini, e Lucia Annunziata, vedete, con le mani davanti alla bocca dopo questo scivolone del quale poi si è scusata. Questa era la prima pagina di Libero, vediamo anche il secolo, che ha un'apertura diversa, il secolo d'Italia, anarchici rivendicano gli attentati, fratelli d'Italia che dice è emergenza, anche qui c'è la stessa foto di Lucia Annunziata, la roccella contro l'utero in affitto, annunziata, sbrocca. Vediamo anche le notizie economiche sul Sole 24 Ore, che il lunedì ha un'edizione diversa rispetto al soldo, con una serie di approfondimenti, oggi si parla di riforma fiscale, pane, latte, pane, latte e energia e sanità, via il risico dell'aliquoteiva, oggi l'imposta va dal 4 al 22%, il governo pensa di rivedere i panieri dei beni, spunta l'aliquota zero per i prodotti essenziali, l'incognita Costi e poi il lavoro extra UE, click day semplificato. Queste le Sole 24 Ore, vediamo anche la Gazzetta dello Sport del lunedì con i verdetti delle partite di Serie A di ieri, si parte dalla Juventus, Juventus a muso duro, Costi c'estende l'Inter, tra bar polemiche, rissa finale, vittoria a Stile Allegri, furia in Zaghi, gol da annullare, inaccettabile. E sotto ovviamente tutti gli altri verdetti, in particolare il Napoli, scudetto arriviamo, Napoli show pure con il Toro, il titolo già ad aprile, si chiede la Gazzetta, visto il grande vantaggio del Napoli sulle inseguitrici. Adesso invece andiamo sui giornali abruzzesi, vediamo il centro, prima la pagina regionale, poi le prime pagine delle edizioni locali del quotidiano abruzzese, rifiuti e scontro Lega Forza Italia a Pescara, il carroccio vuole il rinvio del porta a porta, del trecco dice si va avanti. Sotto la grande foto è per il Pescara che riparte con un trissi, il Delfino batte la Turis per 3 a 1 e torna al terzo posto da solo. Notizie di cronaca, si allontana da casa con l'auto e sparisce, paura per un anziano, ricerche a manopello, schianto sulla 14 inchiesta sulla morte del 29enne tra Francavilla e Ortona e poi sotto qui ritrovata una lettera del Vate, manoscritto del 1926 di Gabriele D'Annunzio, era stata rubata dieci anni fa a Roma, era in vendita su un sito internet. A Pescara Vecchia niente musica, locali vuoti, la protesta dei gestori, quello che accade un po' anche nel capoluogo molisano. E questa era la prima pagina del centro, vi faccio vedere anche le edizioni regionali. Le edizioni provinciali, scusate, questa è quella di Teramo, l'apertura è post-sisma 201 milioni alle scuole, sbloccati interventi di ricostruzione e adeguamento in 48 edifici. La grande foto è sempre per lo sport, ma al posto del Pescara c'è appunto il Teramo che punta più in alto, promosso in eccellenza. Dalla pagina del centro dell'edizione di Teramo vediamo adesso invece quella che riguarda Chieti, la morte di Andrea, tre paesi in lutto, l'abbiamo visto la notizia è quella dell'incidente sulla A14 e la morte di un giovane 29enne. Sotto lo sport qui c'è il Chieti, il Chieti K.O., la Beffa arriva nel finale, la Vastese getta al vento due rigori, alte notizie sportive. Chiudiamo le varie prime pagine del centro con la pagina riferita alla provincia dell'Aquila, gas da pagare, rate ogni due mesi, bollette in arrivo dal 27 marzo a 3.000 famiglie del progetto case. Lo sport, l'Aquila Serie D ad un passo battuto 1-0, il Castelnuovo si potrà festeggiare a Capistrello. Chiudiamo con l'inserto abruzzese del messaggero che in apertura ha la questione dei costi per le famiglie. Famiglia in affanno slitta alla Tari, a Pescara, l'annuncio dell'assessore Eugenio Seccia alla vigilia della maratona di bilancio, la prima rata in scadenza a fine marzo, il Comune punta a rimodulare le tariffe. Sotto la testata la vittoria del Pescara, Pescara Tris continua la lotta per il terzo posto, battuta la Turris e c'è la foto dei giocatori del Pescara che festeggiano. Questa era la prima pagina del messaggero Abruzzo e con questa prima pagina abbiamo concluso la nostra rassegna stampa come ogni lunedì, adesso ci sono le highlights della domenica sportiva qui in Molise. Campionato di Serie D, Girone F, ventottesima giornata, undicesima di ritorno. Chieti-Trastevere 1-2, Cinzalba-Longa-Portodascoli 1-0, Matese-Avezzano 2-2, Montegiorgio-Romasiti 0-2, Notaresco-Tolentino 0-0, San Benedettese-Vastese 1-0, Nuova-Florida-Pinetto 1-3, Vasto-Girardi-Fano 0-1 e Senigallia-Termoli 1-0. Per una classifica che vede in testa il Pineto a quota 63 punti, segue a 54 la Vigor-Senigallia, Trastevere 49, Cinzalba-Longa 46, Fano 45, Portodascoli 41, Matese 40, Vezzano 37, San Benedettese 36, Vasto-Girardi, Chieti e Nuova-Florida tutte e tre a 35 punti, Roma-Siti 32, Termoli e Montegiorgio 27, Vastese 26, San Nicolò-Notaresco 24, chiude il Tolentino con 21 punti. Alditella vince il Fano contro il Vasto-Girardi 0-1, il definitivo decide al settantesimo una bella rete di broso sull'assist di Nappo. La Vigor-Senigallia ospite supera di misura il Termoli al diciassettesimo, il tiro di Cariota in corso supera Lombardo per l'1-0 finale. Campionati regionali partiamo da quello di eccellenza. 24esima giornata, Virtus-Gioiese, Campobasso 0-6, Campo di Pietra-Gambatesa 0-6, Pietra-Montecorvino-Castel di Sangro 5-2, Venafro-Boiano 2-3, Aurora-Alto-Casertano-Isernia 2-3, Aurora-Ururi-Campomarino 1-5, Guglionesi-Sesto-Campano 1-2, Turris-Olimpia-Agnonese 2-5. Graduatoria giornata del massimo torneo regionale, Campobasso a 66, Seguelisernia 64, Aurora-Alto-Casertano a 56, Turris 43, Venafro 42, Campomarino 40, Sesto Campano 39, Guiglionesi 38, Boiano 33, Olimpia-Agnonese 31, Pietra-Montecorvino 30, 21 per Gioiese e Castel di Sangro, Ururi 17, Gambatesa 11, chiude il campo di Pietra a fermo a meno due punti. Lisernia si impone per 3-2 sul campo dell'Aurora-Alto-Casertano dove finora non aveva ancora vinto nessuno. Sono però i padroni di casa a passare in vantaggio con Alfagem che sfrutta questo lancio dalle retrovie e Fredda e Lisèi per l'1-0. Il gol del parigio di Lisernia arriva al 34esimo del primo tempo ad opera di De Filippo che dal limite dell'area stoppa e tira rendendo imprendibile la traiettoria per Ranieri. Sul fine del primo tempo arriva il nuovo vantaggio dei padroni di casa, punizione di Mancino dalla sinistra e Lisèi non è irreprensibile e il pallone si infila in rete per il 2-1. Nella ripresa Lisernia torna di nuovo in parità con Cascio che dalla sinistra centra dal limite dell'area un pallone a mezza altezza su cui Ranieri non può niente. Il gol del 3-2 è ancora opera di Cascio che sfrutta un'azione da calcio di punizione che colpisce prima la traversa e poi di testa irrompe e imparabilmente batte il portiere russo per il 2-3 definitivo. Turris 2, Olimpia agnonese 5, minuto 5, Angelo Brunetti pesca Lucio Brunetti che insacca per lo 0-1. Trentatreesimo, Dorta riesce a trovare un varco nella difesa, Viscardi non trattiene la palla ed è 0-2. Corre il 46esimo, Angelo Brunetti si spinge sulla fascia destra e a tu per tu con il numero 1 casalingo chiude il primo tempo per 0-3. Terzo minuto del secondo tempo, il tiro di Dorta viene respinto da Dell'Aquila, Di Ciocco sfrutta il rimpallo ed è 0-4. All'undicesimo punizione di Cacchione la respinta di Castelli permette a Budano di segnare per l'1-4. Siamo al tredicesimo, Cacchione dribbla tre avversari ed in maniera certosina accorcia le distanze 2-4. L'entusiasmo si spegne con il rigore battuto da Dorta, Turris 2, Olimpia agnonese 5. Il Campomarino sembra aver ripreso la marcia giusta nella zona alta della classifica, terzo minuto finizio in becca sulla corsia di destra, l'offensiva da parte di Duzza, il ragazzo albanese mette in mezzo la testa di incrociare e del capitano Montechiari per i gol del vantaggio sono passati tre giri di lancetta, ne passano altre tre, il cross di testa è comodo per Montechiari appeggiare in fondo al sacco il gol del 2-0 dopo sei giri di lancette, doppietta personale per il capitano al nono, l'Ururi torna in partita con il piazzato in corsa da parte di Lullo per il gol del 2-1 che riapre solo momentaneamente il confronto al trentesimo, la bomba su punizione di Finizio che piega le mani di Sandu per il gol del 3-1 nel finale di tempo c'è Gloria ancora per l'attaccante del Campomarino, tornato sempre più alla ribalta imbeccato in profondità da Falco, trova la conclusione in diagonale millimetrica per il gol del 4-1, il tris per Finizio si completa nel secondo tempo al trentacinquesimo, ancora Falco da assist man il pallonetto vincente di Finizio sull'uscita di Sandu per il 5-1 definitivo con cui il Campomarino espugna il rettangolo dell'Ururi. Siamo con il campionato di promozione, anche in questo caso 24esima giornata, Esernia Fraterna Spinete 3-2, Baranello Cliternina 5-3, Don Chistagnone Termoli 2016 1-2, Juvenes Ripa Limosani 0-1, San Pietro in Valle Altiglia Samnium 4-0, Vairano Montenero 3-0, Petacciato Roccaravindola 3-3, Trivento Polisportiva Fortore 1-2. Classifica del campionato di promozione apre la Polisportiva Fortore con 63 punti, San Pietro in Valle 53, Termoli 48, Spinete e Ripa Limosani 47, Esernia Fraterna 44, Roccaravindola e Vairano a 38, Juvenes 35, Cliternina 31, Baranello 25, Trivento e Don Chistagnone a 23, Montenero 12, Petacciato 11, chiude l'Altiglia Samnium con 4 punti. Vittoria in rimonta del Fortore che sbanca Trivento 2-1 ed è vicinissima all'eccellenza. I gol tutti nella ripresa, al nono il Trivento passa con il penalty realizzato da Cirenei, 5 minuti dopo il pari sempre dal dischetto con Ruggero. La Polisportiva Fortore compie il sorpasso con Baratta. Bene, con gli highlights della domenica sportiva appena trascorsa si conclude la prima edizione del nostro telegiornale, la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata e una buona settimana. Grazie a tutti.